PLM Pavimenti Artistici progetta e realizza pavimentazioni interne ed esterne, in pietra di considerevole pregio estetico e qualità costruttiva, dando vita ad ambienti unici ed esclusivi. L'arte del mosaico in pietra è una delle più antiche forme di decorazione, sia per le qualità estetiche che per gli eccellenti doti di resistenza. La nostra ditta è sinonimo di originalità, creatività e naturalità, in quanto progetta e realizza pavimentazioni assolutamente esclusive. Grazie per la visione!